Gli isolatori sismici ci sono, sono quelli dei giapponesi, paese sismico e abituati ai terremoti, ma paradosso dei paradossi non hanno il marchio CE e dunque non possono essere montati nel palazzetto dello sport donato all'Aquila dal Giappone nel dopo sisma. 5 milioni di euro di donazione fermi e un cantiere, quello in località Centicolella, chiuso da ben 5 mesi da quando la ditta da dopo Natale ha stoppato i lavori. In questa vicenda che ha dell'assurdo e che sta portando a inevitabili ritardi, c'è il governo giapponese che ha deciso di condurre i lavori affidandoli senza abbando ad una ditta di fiducia italiana, scegliendo anche questi isolatori sismici senza marchio CE. L'unico modo per ovviare all'inconveniente è presentare ora domanda a Bruxelles, passaggio questo che chiaramente porta via tempo. A questo punto ci si chiede chi pagherà l'aumento dei costi visto che la ditta è ferma. È evidente che in sede di approvazione di progetto il Comune non ha valutato questa eventualità e ha creato l'impasse in cui ci si trova adesso. Mese e mesi persi, aggravati anche dal rimpallo di irresponsabilità di assessori entranti e uscenti. La patata bollente oggi è finita in mano all'assessore alle opere pubbliche Maurizio Capri, il quale, ancora frastornato dal superlavoro della donata degli Alpini, ancora non ha modo di studiare le carte, ci ha detto.